A metà ottocento l'Europa è ancora in una fase convulsa, ha attraversato campagne militari, da quelle napoleoniche a quelle successive, ha passato rivoluzioni, la rivoluzione del 21, del 31, ha passato guerre, perfino l'Italia è stata coinvolta in queste guerre, l'Italia che ancora era molto divisa, la guerra del 48, quella che è ricordata come anche la rivoluzione del 48, il 48-49, la nascita della Repubblica di Venezia, della Repubblica Romana, il fallimento dei tentativi contro l'Austria, il coinvolgimento dello Stato Pontificio e di altre regioni italiane e di altri Stati italiani. È ancora un'Italia divisa nel 1850-51, proprio in questa situazione di un'Europa ancora strenuata da queste guerre, da queste rivoluzioni, nasce un'idea al Principe Alberto, il Principe consorte amatissimo della Regina Vittoria, l'idea di cercare di unire dei popoli, è un'usopista il Principe Alberto, lui vede nella possibilità di scambi commerciali, di scambi economici, nella possibilità di far conoscere le eccellenze dei vari paesi del mondo, una possibilità di por rimedio alle guerre, por rimedio all'antagonismo politico e militare tra paesi, proponendo una grande mostra a Londra, quella che sarà la mostra del Crystal Palace, una mostra che nasce nel 1951 sotto appunto l'egida della monarchia inglese, in cui mettere a confronto una volta tanto pacificamente e all'insegna delle eccellenze economiche dei vari paesi, i paesi del mondo. Nel 1851 viene inaugurata questa mostra con un buon numero di espositori da vari paesi del mondo, pur essendo in un periodo ancora convulso di guerre, ma di là poco ci sarà la guerra di Crimea, ma il Principe Alberto ci crede molto, la Regina Vittoria lo appoggia e per la prima volta vengono messe in campo le nuove tecnologie, nuove tecnologie che hanno in qualche modo origine dall'esperienza industriale inglese, sfruttando anche quella dei paesi dell'Europa centrale e della Francia e tra queste tecnologie quella che emerge è quella per le strade ferrate. In pratica si mettono a lavoro a Londra e poi da Londra in poi, in tutte le grandi esposizioni universali, i maggiori esperti di costruzioni ferroviarie, sembra una cosa assurda, perché è vero che le vie di comunicazione erano fondamentali, stavano nascendo in quel periodo le strade ferrate, ma sono proprio ingegneri e progettisti di strade ferrate che mettono a punto i primi progetti per le esposizioni universali, a partire da quella di Londra nel 1951, dopo il Crystal Palace, formato da cristalli e ferro in pratica, è una costruzione gigantesca, viene fatta apposta per l'esposizione del 1851 e avrà un successo straordinario. Teniamo conto che si tratta di architetture come il Crystal Palace, destinate a essere demolite dopo, non dovevano avere una durata nel tempo, perché dopo avrebbero potuto rivendere le rotaie e tutto il ferro utilizzato per fare costruzioni vere e proprie a uso civile e militare. Il Crystal Palace in realtà non venne demolito, venne spostato successivamente, ma ebbe un grande successo. Naturalmente cominciò con l'esposizione universale di Londra, la prima considerata grande esposizione universale del mondo, a rifondersi la coscienza in tutti i paesi dell'importanza di mettere in mostra le proprie eccellenze, le proprie eccellenze artigianali, artistiche, ma anche industriali, commerciali, le grandi produzioni, dalle produzioni agricole alle produzioni meccaniche, dalle costruzioni ferroviarie, a quelle utilizzate per servizi civili, le vie di comunicazione. I mezzi di comunicazione vengono presentati in queste grandi esposizioni universali. Parigi non può stare a guardare, 4 anni dopo Parigi inaugura la sua expo, la grandeur francese, con Napoleone III poi che vuole farsi conoscere nel mondo, non può non avere la sua esposizione universale. E quindi nel 1955 nasce un'altra esposizione universale. L'Italia ancora non partecipa a queste esposizioni universali, dove il numero dei paesi anche per le guerre ancora in corso è piuttosto limitato. Ci sarà una nuova occasione nel 1962, ma anche in questo caso l'Italia parteciperà solo in modo occasionale e non ufficialmente. L'Italia aveva appena combattuto la guerra del 1959 contro l'Austria, c'era stata l'unificazione d'Italia nel 1961 dopo la spedizione dei Mille, era ancora in alto mare col brigantaggio, quindi non partecipo ufficialmente alla lotta al brigantaggio, non partecipo ufficialmente a quella di Londra, ancora voluta dal Principe Alberto, ma è anche l'anno della morte del Principe Alberto. Quindi una Londra in lutto con fasciata di nero ospita una seconda esposizione universale londinese, sarà anche l'ultima. Dopo l'Inghilterra si asterrà dall'organizzare grandi mostre universali e sarà la sua ultima esperienza, poi si limiterà a fare mostre a livello nazionale o tipologiche. All'indomani della mostra di Londra si comincia a progettare una mostra in terraferma, diciamo, in Francia. Una seconda mostra a Parigi viene organizzata nel 1867 e per la prima volta l'Italia partecipa ufficialmente a questa mostra. È uscita delle guerre a fianco della Prussia contro l'Austria, è uscita vittoriosa grazie soprattutto alle armi francesi, no, prussiane, scusate, e l'Italia può finalmente permettersi di partecipare. E' già una buona partecipazione. Chi è che si presenta per l'Italia? Produttori vinicoli, chiaramente, e prevalgono quelli siciliani e piemontesi naturalmente, ma c'è anche una presenza veneta, di vini veneti. Prodotti agricoli, l'Italia è ancora un paese molto povero, è un paese molto arretrato, sono pochi i grandi geni dell'economia che riescono a mettere a punto e a predisporre i mezzi tecnologici avanzati, ma anche produzioni avanzate dal punto di vista agricolo. Solo un Alessandro Rossi, grande personaggio, vicentino, riesce a, con altre menti come Luzzatto, i Camerini, a mettere a punto dei progetti grandiosi di città dell'artigianato, città dell'industria, ma per il resto il Veneto è ancora molto povero, però ha tantissima, ha una produzione variegata e di grande portata. C'è un Vincenzo Stefano Breda che con le accialie di Terni che poi si sposteranno e porteranno la loro produzione anche nel Veneto, acquista sempre più potere e il potere economico va di pari passo con il potere delle imprese bancarie, degli istituti di credito. Tutti i Vollenberg, il Luzzatto, i Breda sono strettamente collegati alla nascita delle prime banche, delle casse rurali, perché senza il credito l'industria e l'artigianato non vanno avanti e neanche le grandi imprese come quelle di Alessandro Rossi, fondatore dell'Anerossi di Schio, che quindi da 1967 l'Italia comincia a partecipare alle esposizioni universali. Nel 1973 si ripropone un'altra ghiotta occasione per l'Italia, la partecipazione alla prima e unica esposizione mondiale di Vienna. L'Auster solo quella volta riuscirà a organizzare un'esposizione universale, poi vi rinuncerà per le note questioni collegate alle sconfitte che l'Austria comincia ad annoverare numerose e l'esposizione di Vienna al Prater con la grande ruota, anche Parigi aveva inaugurato la sua grande ruota nelle anni precedentemente, anche al Prater ci sarà questa grande ruota viennese. Anche qui la tecnologia la fa la padrona, le grandi ruote sfruttano sempre le strutture inventate da ingegneri ferroviari. Perché parlo sempre di ingegneri ferroviari? Perché già allora in piena attività è Eiffel, quello che nel 1978, all'esposizione universale di Parigi nel 1978, proporrà quello che è l'anima della statua della libertà. Voi sapete che nel 1878 all'esposizione universale di Parigi, grandiosa, dove partecipano già 11 milioni di visitatori, viene ospitata la testa della statua della libertà che Parigi stava allestendo per donarla agli Stati Uniti, doveva donarla per il centenario della rivoluzione americana in pratica. Nel 1878 fa bella mostra di sé la testa della statua di libertà. L'anima in ferro interna è studiata dall'Eiffel e sarà sempre l'ingegnere Eiffel che farà invece nel 1889, per l'esposizione universale di Parigi del 1989, la grande torre che diventerà un simbolo di Parigi. E pensare che tutte queste strutture, come il trocadero, altra struttura straordinaria, padiglione, creato apposta per la mostra di Parigi del 78, diventeranno permanenti, dovevano essere demolite e destinate a riutilizzo, invece diventeranno simboli stessi di Parigi e non verranno mai più demolite, il trocadero sarà sostituito molto un secolo dopo, la torre Eiffel no chiaramente. Nelle foto che restano di quell'epoca si vede la torre Eiffel alle varie fasi della costruzione ed è emozionante vedere come il pubblico in queste foto assiste stupefatto a questa enorme costruzione. L'Italia partecipa sempre più attivamente a queste esposizioni. Nel 1889 è presente con 5 mila espositori, credo circa, adesso vado a braccio per non annoiare, ma Parigi fa la parte del leone, come si vede, ha già ospitato nel 89 varie mostre. L'89 è importante perché è l'anniversario, il centenario della rivoluzione francese. I problemi politici, gli attriti politici si manifestano subito in quell'occasione, perché la rivoluzione francese è un inno alla Repubblica e la Francia aveva tutto l'interesse a inneggiare la Repubblica, ma non gli altri paesi monarchici, dall'Italia alla Russia, all'Austria, all'Inghilterra. In pratica c'è un boicottaggio dell'Expo di Parigi del 1889, boicottaggio ufficiale, però i paesi, gli interessi economici che sottendono a queste esposizioni universali fanno sì che l'Italia partecipi in modo informale, partecipano migliaia di espositori italiani, privatamente diciamo. E' successo, è notevole anche per i nostri espositori, anche espositori veneti che portano le loro eccellenze, abbiamo tipografi, abbiamo artisti, molti artisti anche veneti partecipano a quei loro quadri. Ecco, una cosa da dire è che le esposizioni universali che sono fatte e nate per far conoscere la valenza economica e la modernità delle produzioni dei vari paesi del mondo, è anche una vetrina, una grande vetrina per l'arte e l'Italia non può che eccellere nell'arte, chiaramente, per cui moltissimi espositori italiani sono artisti, artisti che portano i loro quadri, certe volte portano anche un solo quadro, però il sono nomi famosissimi che del panorama artistico italiano, anche veneto, personaggi di grande rilievo. Ma gli artisti non sono solo protagonisti dell'Expo come espositori, sono anche protagonisti dell'Expo dall'89 in poi soprattutto, con quelle successive, direttamente nell'allestimento delle esposizioni. Sono loro i più grandi illustratori, mostrano al mondo la bellezza, la grandiosità dell'esposizione. I più grandi illustratori illustrano i manifesti, le locandine, le cartoline che vengono stampate per quelle occasioni. I più grandi architetti organizzano di padiglioni, costruiscono padiglioni, costruiscono edifici appositamente creati per l'Expo e che nella gran parte verranno poi demoliti e riutilizzati, tranne quelli che diventeranno, come detto prima, simbolo. Tra gli architetti ci sono anche architetti italiani, architetti italiani poiché avranno naturalmente una vetrina importante nelle esposizioni successive in Italia. Dopo l'89 si diceva che dopo che Parigi ha fatto per molte volte da campione per l'Europa, comincia a spostarsi l'attenzione verso gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si rendono conto dell'importanza di questo Expo per lo sviluppo economico e tecnologico del paese e quindi cominciano con Chicago a ospitare la prima esposizione universale americana nel 1993. Si arriva dopo all'esposizione, alla più grande esposizione, quella che ha ancora il record di partecipazione dei 51 milioni di visitatori di Parigi nel 1900, quella rimasta nella storia, dove la presenza italiana è notevolissima e poi cominciano le esposizioni italiane. Le esposizioni italiane a cominciare da quella del 1906 a Milano, quindi un secolo prima dell'ultima fatta a Milano nel 2015, le esposizioni in cui l'Italia mette in mostra le sue eccellenze. Costruisce padiglioni straordinari, ma soprattutto stupiscono i visitatori la linea ferrata, sopraelevata che congiunge le due parti, il Parco del Sempione e la piazza d'armi, dove si espone separatamente da una parte e dall'altra del Castello Solsesco e rende questa linea ferrata, sopraelevata, stupisce per la modernità. Ma sono presenti i primi aeromobili, vengono messi in mostra le eccellenze tecnologiche, dall'altra parte, e l'esposizione di Milano e l'esposizione dei trasporti. Si inaugura nel 1906 la Galleria del Sempione e a quella è dedicata, come si vedrà anche nei manifesti, nelle locandine, è dedicata la mostra del 1906. Il manifesto più bello, il più noto, l'immagine più bella, illustrata dal grandissimo artista, anche questa, è quella del ferroviere che esce sulla locomotiva dalla Galleria del Sempione con in testa un casco che è in realtà un mercurialato. Il Milano, dall'astura a questo nuovo, si cominciano a vedere i primi manifesti di impronta futurista. La belle epoca ancora esplode nei decori, nell'arte, nei padiglioni dedicati all'orificeria e anche alle giostre. 1911 Torino, Torino e Roma, per ricordare il cinquantenario dell'istituzione del Regno Italia, della nascita del Regno Italia, organizzano in contemporanea a due grandi mostre. Anche lì gli artisti italiani, e non solo italiani, si sfogano nell'illustrare i manifesti, le locandine, le cartoline, i prodotti, le scatole con cui vengono incartati i prodotti alimentari, dove l'Italia eccelle naturalmente. L'arte ha un ruolo di primo piano nella pubblicità e l'arte della pubblicità, che era nata in pratica a Parigi nel 1889, ormai dilaga e diventa una parte essenziale di tutte le esposizioni universali. Il 1915 sarà l'ultima grande esposizione universale, di nuovo negli Stati Uniti a San Francisco, per l'inaugurazione del canale di Panama. Anche lì l'Italia parteciperà con molti produttori, con molti prodotti. Si conservano molte documentazioni su questo nei nostri archivi. Bisogna dire che però il 1915 sarà anche l'anno in cui si sospenderanno. Dopo il 1915 c'è la guerra, siamo in piena, anzi si inaugura a San Francisco, mentre in Europa siamo in piena guerra mondiale e quindi poi ci sarà una pausa, una lunga pausa. Dopo la guerra sarà l'epoca delle esposizioni campionarie, delle mostre campionarie, quindi regionali, locali e la prima in assoluto che verrà allestita nel 1919 è proprio quella di Padova, la fiera campionale di Padova, che è una grande vetrina. Il Veneto vuole rendersi un mediatore tra Occidente e Oriente, Venezia ha ancora questo sogno di essere un punto di unione tra Occidente e Oriente e Padova inaugura questa mostra campionaria dove Oreste Damolin è uno dei personaggi, degli illustratori, degli artisti che fa parte da padrone, ma viene soppiantata l'anno dopo, il suo sogno di diventare un polo importante e un tredognon tra Occidente e Oriente viene anichilito dalla nascita della fiera campionale di Milano. L'anno dopo questa diventa la fiera più importante dell'Alta Italia, sarà quella che avrà un ruolo di unione tra Occidente e Oriente e diventerà, in altra parte, Milano e anche l'area industriale per eccellenza, non potrà che soppiantare l'importanza della mostra campionaria Veneta. Quelle successive saranno mostre campionarie, saranno mostre coloniali, già nello 1800 c'erano state le prime mostre dedicate alle colonie, il Belgio aveva organizzato una grande mostra all'anversa, dopo il 1921 si inaugurano varie mostre coloniali anche italiane, nei paesi, nella Libia per esempio, ma sono mostre in cui l'impronta nazionalista è fortissima, è proprio il nazionalismo che rastura nuove guerre in quegli anni e quindi le mostre universali perderanno di valenza e di attenzione perché il mondo sarà ancora preda di una lotta non più economica, anche economica chiaramente, ma non una lotta tra eccellenza e una lotta armata, invasioni, occupazioni e poi regimi che chiuderanno il periodo della pace e sembreranno annichilire il sogno del Principe Alberto, di un mondo in pace. Grazie. 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 Grazie.